cari amici cari bambocci ma soprattutto care sorelline in calore come va spero tutto bene siamo qui oggi signori miei nel nuovo server 1851 inizia una nuova era l'era bastonistica e cari amici cari amici come potete vedere grandissima novità sono stato finalmente accettato tra i tpks the peacekeeper the peacekeeper noi siamo i mantenitori della pace siamo un po come la polizia come i carabinieri siamo quelli che mantengono la pace e signori allora la situazione adesso chiaramente si svolge per il meglio perché entrando in una grande alleanza come questa si cresce si crescerà veramente in fretta sono felicissimo sono contento e sono euforico poi vi devo ringraziare chiaramente per tutti i messaggi che mi mandate sotto l'ultimo video avevo 105 commenti stamattina quindi immaginate che roba le serie di capobastone su rise of kingdom sta prendendo il volo sta decollando sono un po come un pilota dell'alitalia e volo però cari amici miei molti mi rompono i coglioni dicendomi e ma capobastone ma tu non puoi mettere la premiere per domani a me ero del culo io lo voglio vedere subito al video a lo vuoi vedere subito al video e allora devi fare così pagare o sfrusciare o se paghi i video li vedi altrimenti lo prendi in culo e pagavo 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 felice bastone per pagar le bollette il mutuo la spesa il prosciuttino e pure il formaggino se non pago bastone lui non può pagare internet se non pago col cazzo che vedo i video capobastone ti amo perché tu sei sincero e prendi il danè e io pago io pago io pago felice per guardare i tuoi video e così che la società va avanti capito bamboc se tu non paghi col cazzo che ti faccio i video questa è una canzone cantata come piace alle vostre sorelline in calore cioè a cappella perché ovviamente è questo il fulcro del discorso voi volete 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 facci un video al giorno io un video al giorno ve lo posso anche fare se voi sgranellate il protafoglio io lo posso fare perché posso andare a comprare il prosciuttino il formaggino posso pagare mutue bollette quindi dovete sganciare qua sotto nella paypal vedete tutti i link in descrizione io ringrazio tutti quelli che contribuiscono in maniera continua ed effettiva posso nominare alessandro gray regine ronaldigno posso nominare anche il berlusca posso nominare tutti gli altri che mi danno il prime i beat i suoni insomma mi state aiutando tanto io mi sto impegnando tanto per portarvi più video possibili allora iniziamo subito basta farci pompini a vicenda perché chiaramente sono entrato nei tpks ho parlato con il capo clan felicissimo di avermi mi ha dato il benvenuto e ora ragazzi inizia la fase della crescita pesante e feroce cosa voglio dire allora andiamo subito nel mio villaggio io chiaramente sono a 17 milioni non è tantissimo però per essere un free to play diciamo me la sto cavando bene anche perché molta gente mi dice capobastone ma tu sei un mago sei un maestro ma da free to play come hai potuto crescere così tanto e beh questo si tratta tutta una questione di impegno di ragionamento io in un video no vi ho spiegato nel video come crescere velocemente a usare il cervello a pianificare tutto no io sto pianificando ancora voi dovete pianificare mossa dopo mossa e avere già la mossa successiva appena prima che l'altra finisce vi faccio un esempio qui tra tre ore mi scade questa costruzione cioè viene completata e viene ultimata io so già quella che devo fare praticamente no e quindi signori dovete fare una cosa del genere no dovete pianificare le cose anche qui no io ho fatto questa cosa qui in modo tale che tra una ventina di giorni mi finisca e ovviamente qua utilizzerò un po di boost che ce li ho e poi so già quello che devo fare la prossima scoperta scientifica allora vi dico solamente che a livello di tecnologia economica siamo messi molto bene ho raggiunto il livello 10 di matematica per potenziare e velocizzare chiaramente le scoperte scientifiche questa ovviamente serve solamente per le scoperte della dell'accademia quindi tutto quello che vedete qui viene accelerato e adesso ce l'ho al massimo le costruzioni ce l'ho ancora al 7 perché sinceramente adesso preferisco concentrarmi sulla raccolta tipo scure sega da tronchi oppure sega da pietra ed estrazione sotterranea che devo potenziare poi voglio potenziare macchinario e iniziare adesso a fare le cose seriamente sulla tecnologia militare ho portato camuffaggio al 4 su 5 me ne manca una e poi devo iniziare a portare avanti queste tre cose che sono belle dispendiose in questione di tempo perché ad esempio no formazione di difesa come potete vedere ti chiede poco 5 milioni adesso ormai per me 5 milioni non sono niente anche se adesso sono ancora un po così con le risorse come potete vedere ma perché mi sono trasferito da due giorni e sto veramente bustando pesante e però sono pochi no il problema sono i 13 giorni che vanno chiaramente accorciati perché qui bisogna crescere velocemente ora e poi altra questione è uscito un nuovo comandante è uscito un nuovo comandante che si chiama mulan mulan sapete quella del film è proprio lei mulan quella del film cari amici cari amici quella del film e mi hanno chiesto già in tanti ma la voglio potenziare la devo potenziare cosa faccio capobastone beh sinceramente questa va chiavata a sangue no una bella figa no vedete combattente una bella gnocca questa qui le tirate la coda pecorina però ragazzi ha un problema mulan allora prima di tutto chiaramente questa è una è un comandante di supporto come potete vedere no questo comandante eccelle nel potenziare le sue truppe quelle degli alleati quindi diciamo che fa un lavoro di supporto va in mezzo a tutti gli altri e cura aumenta danno difesa insomma farà le sue cose però il problema di mulan sta proprio qua nell'integrazione non è dedita a una tipologia militare cosa voglio dire non ha fanteria cavalleria arceria ma integrazione c'è questo comandante eccelle nel condurre armate contenenti diverse tipologie di unità e questa è una cosa che io odio io devo portare tutte fanterie tutte cavallerie tutte arcerie non mi piacciono i gruppi misti un po un po soldati un po cavalieri perché poi bonus vanno un po alla cazzo di cane poi dovete ogni volta settare non so portando 50.000 cavalieri 70.000 cavalleria 13.000 arceria insomma è un po un casino lasciate stare ho visto un po le abilità non mi sembrano quel granché ad esempio no abbiamo pietà ancestrale 15 per cento di attacco difesa e salute vabbè ok però insomma ragazzi è un comandante un po un po così poi abbiamo riduzione del danno che arriva solamente al 5 per cento abbiamo un bonus esperienza quindi questo mi fa capire che va dedicata chiaramente all'uccisione dei barbari questa un po un secondo loarto una seconda budica ecco la possiamo utilizzare così perché praticamente ti dà un un'esperienza del 95 per cento molto molto buono per per uccidere i barbari però non per il combattimento pvp poi abbiamo un generale unico che ti dà 20 per cento di bonus d'attacco e danno subito aumentato insomma non è proprio un combattente pvp è un po un po un lore cioè usatelo per per far fare esperienza ai vostri comandanti insomma quando poi vi stancate il problema soprattutto di questa qui è che è una leggendaria capito fosse un epica ci puoi anche dedicare tempo ma io non posso andare su abilità e buttare via le mie preziosissime teste di cazzo d'oro per mulan cioè sinceramente mulan me la sfrigolo sotto i coglioni quindi questa qui usatela proprio quando avete consumato tutte le teste ma cosa che chiaramente non succederà mai prima dei 4 5 6 anni perché chiaramente con tutti con tutte quelle che ci sono a sbloccare e qui ce ne sono solo alcuni perché ce ne sono molti di altri di comandanti e questi sono solo una piccola fetta quelli che vedete non ancora reclutati ma ce ne sono molti altri quindi insomma io io vi consiglierei di mettere via le teste se fossi in voi poi poi vedete voi altra novità e che vi volevo dire praticamente è quella che mi state già chiedendo capo bastone posso venire capo bastone posso capo bastone voglio venire da te bla 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 allora vi dico solamente una cosa poi fate voi allora questo regno ha vinto il kvk di livello 1 c'è il primo kvk allora la situazione è questa qui ci sono le quattro alleanze più potenti che ci sono 101 poi ci sono i fly ci sono i cdnr ci siamo noi dei tk tpks ora ragazzi vi avviso subito stanno arrivando delle balene da 50 60 milioni sia da noi sia negli altri clan se voi avete 5 6 7 milioni statevene a casa fidatevi perché altrimenti sempre il solito ragionamento dovete finire nelle alleanze più piccole e qui signori crescete veramente piano lentamente nel kvk non sarete mai completamente nel vivo dell'azione quindi al contrario dell'altro server io vi dico ma ben volentieri vi vorrei qua sarebbe veramente un onore per me però ragazzi sappiate che dovete avere una potenza minima ma dico minima ma veramente di 25 30 milioni perché altrimenti col cazzo allora voi vi direte e mi vedete ma come hai fatto entrare beh ragazzi io ho usato un po chiaramente del mio del ho fatto un po di raccomandazioni insomma sono uno youtuber sono uno streamer sono uno che propone video quindi mi hanno fatto entrare però ragazzi se vi proponete a questi clan no con 5 6 milioni rimanete fuori non ci credete e allora andiamo a fare la prova come al solito come al solito andiamo in approvazione guardate quanti quante richieste ci sono che non saranno mai prese guardate guardate gente che ha anche 13 milioni 5 3 insomma anche questo che ha 18 non viene preso questo addirittura ha più di me e non viene preso capito perché servono anche le uccisioni io ne ho quasi 3 milioni le uccisioni qui sono scarsette vedete insomma questa è la prova più evidente vedete voi insomma ecco io non vi consiglio di venire qua poi ho visto ho visto che c'è un clan mi pare ce ne sono un paio uno so che qui ci dovrebbero essere le fenici ma non so se sono andate via insomma c'era un clan qui da qualche parte che non riesco a capire dov'è forse sono andati via non riesco a capire che si chiama le fenici ma non so bene dove sono finiti erano da queste parti qui le ho viste l'altro giorno ma probabilmente sono emigrati non lo so e un altro clan italiano che non non ne ho idea di dove sia e quindi signori se venite qua sappiate che vi tocca andare nei clan fuori zona 3 sicuro zona 2 già vi è molto preclusa perché qui c'è gente ragazzi che c'ha i 60 70 milioni ok quindi io vi vorrei ben volentieri però sappiate che qui vige questa cosa qua ora detto questo avete capito perché la gente mi continuava a dire vieni nel server 1080 1100 e non non sono mai andato perché poi mi sarei ritrovato in queste situazioni questa questo server qua praticamente a 20 regni di differenza dal mio però avendo vinto il kvk ed essendo una gerarchia militare perfetta perché veramente i 100 ci stanno organizzando delle cose perfettamente mettono i punti mettono le cose i buff giusti ad esempio no l'altro giorno è uscito qua dopo aver fatto il i guardiani reali è uscito una di queste cose qua no una di di queste cose qui di delle rune che aveva un un'esperienza di costruzione del 7 del 10 del 15 non mi ricordo subito il re ha messo un buff tipo questo qua no il buff del della costruzione e ha fatto la combinazione questo più il buff del regno quindi capito vedete anche qui no noi ogni volta scriviamo build expert praticamente questo qui no che ti dà l'esperienza del 15 per cento e poi c'è l'attack point da qualche parte del del 10 che sarà da qualche parte insomma qui bisogna cercarlo insomma è organizzato veramente molto bene questo server perché chiaramente insomma ti dà sono sono proprio organizzati ti danno tutte le informazioni necessarie per per avere al meglio tutto sono un server molto unito non ho mai visto scontri non ho mai visto cazzate veramente sono felicissimo di stare qui bene signori per questo video è tutto ora vi saluto tanti like per capobastone noi ci ribecchiamo al prossimo video tutte le sere dalle ore 21 e 30 in diretta live su twitch e sito superiore capobastone official e al prossimo video saluti 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 tanti like per capobastone agagagagra